Salve a tutti, quest'oggi vi parliamo della game camera della TechBean, nome e codice SG009. Come potete vedere ci siamo portati un po' avanti con l'unpackaging, altrimenti il video durava davvero troppo. Quindi, andiamo a presentarla. Si tratta di una game camera, oppure di una action cam o di una wildlife cam. Sostanzialmente è una telecamera avanzata, in grado di funzionare in completa autonomia e di rivelare tutta una serie di movimenti a seconda delle impostazioni, sfruttando principalmente due delle sue funzioni chiave, che sono il sensore di movimento e la presenza di un array di LED infrarossi davvero molto efficace e che vedremo meglio in seguito. Per quanto riguarda le caratteristiche, qui ne vedete soltanto alcune, ma sono davvero impressionanti. Cominciamo col dire che è una telecamera da 12 megapixel di risoluzione, quindi pure avendo un'ottica molto piccola e ovviamente grandangolare per gli scopi che si prefigge, 12 megapixel sono più che sufficienti per catturare ogni tipo di movimento. Altra cosa molto molto importante è la presenza di una custodia garantita e certificata IPX66. Questo significa che è impermeabile, resistente agli schizzi d'acqua, ai detriti, al fango, d'altronde tutto quello che ci si aspetterebbe da una telecamera, che vogliamo, nel migliore delle ipotesi, abbandonare nei boschi, passateci questa espressione, e andare a recuperare il giorno dopo per osservare gli scatti che sono stati realizzati. Bene, passiamo all'osservazione adesso della Tech Bean, quindi andiamo ad analizzarne gli aspetti salienti e partiamo proprio dall'estetica, che come potete vedere è alquanto particolare. Si tratta infatti di una telecamera mimetica, ma non mimetica nel senso classico del termine. Infatti, vedete, sono assenti i classici patchwork marroni e verdi tipici delle mimetiche che insomma un po' tutti quanti associano a questo termine. Bensì si tratta di un rivestimento davvero ben realizzato, con una tecnica che, insomma, per i più curiosi, se volete andare a cercare, consiste nell'applicare questo rivestimento fotografico in forma semiliquida e, vedete, va ad adirire perfettamente ad ogni bordo, ad ogni concavità, ad ogni porzione in rilievo, perfino ai cardini delle cernie di apertura. Vedete, non c'è nessuna zona che non sia perfettamente ricoperta e rivestita da questa mimetica, che, come vedete, è una mimetica adatta ai boschi autunnali invernali. Ci sono tronchi, rami, foglie secche. Quindi, diciamo, si sposa bene con un ambiente simile. Magari metterla in un prato verde del balta, ecco, potrebbe non essere la soluzione ideale. Per quanto riguarda, invece, la sua capacità mimetica... Vediamo una foto, eccola qui, in cui abbiamo messo in posizione la nostra tech bin e, come vedete, è presto a poco invisibile. È davvero difficile poterla vedere. Qui c'è addirittura una foto col flash e, vedete, non c'è alcun riflesso che ne sveli la posizione. E questo, grazie soprattutto a questo rivestimento particolare che si ha sui LED e ai LED stessi, che sono le LED infrarossi puri o cosiddetti black. Perché? Perché non emettono quel classico, come dire, piccolo effetto luminescente rosso che, invece, si osserva spesso su altri LED. Per quanto riguarda, poi, le caratteristiche esterne, osserviamo, velocemente, che in prossimità delle due cernie di apertura c'è un apposito meccanismo di blocco che vi consente di inserire un catenaccio, ad esempio, e quindi di lasciare la Tech Bean in posizione senza pericolo che qualcuno possa aprirla e manometterla. Sul retro, invece, troviamo un'ampia gamma di supporti, davvero utilissimi per ogni possibile situazione. I classici sono questi due. Come vedete, uno un po' più stretto e uno un po' più largo per consentire non solo il passaggio della classica stringa, tra parentesi, inclusa in dotazione, la vedete nelle foto, per farla aderire al tronco dell'albero, ma anche questi due, vedete, utilissimi perché consentono di far passare un tondino oppure una sbarra d'acciaio qualora non la stiate posizionando su un albero ma su una riniera oppure su un rivestimento o su un palo, insomma, a seconda delle circostanze. Altra cosa utile sono i due attacchi filettati, ne trovate uno qui e uno qui sul fondo e sono fondamentali perché vi consentono di fissarla, ad esempio, ad un treppiedi oppure ad un altro supporto con le classiche rondelle di bloccaggio dalle apparecchiature fotografiche e quindi anche di utilizzarla, per così dire, in setup semi-permanenti e molto utili soprattutto in assenza, magari, di un albero nella giusta posizione a cui fissarla. Infine, una cosa che ci tenevamo a sottolineare, vedete, tutte le superfici di appoggio sono raggerized, cioè hanno una texture per ancorarla meglio agli alberi soprattutto questi dentini che sono impressi qui sulla superficie sono fondamentali perché consentono un'ottima adesione impedendo alla telecamera di scivolare e questo è importante perché il peso è notevole. Peso notevole in gran parte giustificato, adesso lo andiamo a vedere, dall'alimentazione della camera stessa. Qui siamo all'interno, ovviamente, vedete, sensore peer, array di LED infrarossi, ottiche due sensori sia per la luminosità sia per il passaggio un sensore dedicato al passaggio notte e il giorno e qui sono anche incorporati due piccoli LED di segnalazione che vedremo in azione in seguito. Sul fondo troviamo, invece, l'uscita TV-out, utilissima per i setup permanenti quindi se volete utilizzarla come Wildlife Observing Cam, la potete fissare in un punto, utilizzare l'uscita TV-out con il cavo in dotazione con aggancio RCA per poter monitorare sempre il feed della videocamera e, soprattutto, qui a dietro, l'alimentazione. Alimentazione classica da 12 volt e 1 ampere, l'alimentatore non è fornito nella confezione ma è davvero facile recuperarlo. Come vedete, l'alimentatore è interno ma all'esterno è presente uno sportellino protetto anch'esso dalla classica membrana in gomma con il quale poter accedere alla presa di alimentazione e, infine, il microfono per la registrazione dei suoni. Per quanto riguarda il peso, dicevamo, una delle caratteristiche, chiaramente, è l'alimentazione di questa telecamera. Come vedete, con il pulsante apposito apriamo il vano batterie, le estraiamo ed ecco qui il cosiddetto pacco batterie piuttosto notevole perché abbiamo 8 batterie stilo che, quindi, hanno un discreto peso e contribuiscono, ovviamente, ad aumentare quello della telecamera che, altrimenti, è molto, molto leggera. Ora, una domanda che sicuramente ci potreste fare nei commenti o che potreste fare nella sezione domande e risposte vi rispondiamo subito. Stiamo utilizzando delle batterie ricaricabili? Sì. Perché utilizziamo delle batterie ricaricabili? Beh, va da sé, sono 8 batterie, insomma, è uno spreco utilizzare delle batterie non ricaricabili. Perché utilizziamo delle Enel Loop bianche e non delle Enel Loop Pro? Questo l'ho letto anche in tante altre recensioni, quindi mi precipito subito a chiarirlo. Queste batterie hanno il ciclo di ricariche più alto, sono circa 2.500 cicli di ricariche garantiti. Quindi è ovvio che si vada a preferire questo tipo di batterie in quanto con un'apparecchiatura del genere dobbiamo ricaricarle più volte e quindi ecco perché le abbiamo preferite. Per quanto riguarda il cassetto porta batterie, come vedete è sagomato, quindi è impossibile inserirlo al contrario, anche perché se ci provate, semplicemente non c'è verso di farlo entrare, quindi è facile inserirlo sempre nel verso corretto, una volta fatto inserire va spinto finché non si blocca in posizione. Ecco fatto. Inserite le batterie, si accende anche la nostra cam, siamo nella modalità test. Ora, prima di andare avanti, ci tengo a sottolineare una cosa. Questo è il manuale di istruzioni ed è il vostro migliore alleato. Ve lo diciamo anche perché noi, e credo come anche la maggior parte degli altri utilizzatori, quando abbiamo visto la telecamera ci siamo detti beh, d'accordo, è una telecamera, c'è un menu, basta accedere, la configuriamo e facciamo una prova. Nulla di più sbagliato perché le funzioni sono davvero tante, per ogni funzione trovate una spiegazione, soprattutto trovate degli utili consigli e soprattutto il manuale è tradotto in un buon italiano, quindi si lascia leggere, si lascia capire, motivo in più per seguirlo, soprattutto nella prima configurazione per le modalità di funzionamento. Fatta questa debita premessa, andiamo a vedere come funziona la telecamera. Innanzitutto siamo in modalità test. La modalità test è sostanzialmente una modalità di configurazione. Avrebbero potuto usare la dicitura config, ma hanno preferito una modalità test ed è l'unica cosa che in effetti può confondere un po' a prima vista. Appena accesa in modalità test, la videocamera ci fa vedere cosa inquadra, vedete, possiamo avere un'anteprima di quello che viene inquadrato sul display in dotazione e come vedete, passando sul PIR, si illumina la spia rossa che ci conferma il corretto funzionamento del PIR. Ora, per entrare nel menu, basta schiacciare l'apposito tasto menu ed eccoci qua. Ci sono sei configurazioni complessive nelle quali si può scegliere e adesso li andiamo a vedere insieme. Premendo il tasto ENTER entriamo nei vari submenu, siamo nel submenu MODE che ci dice come vogliamo far funzionare la telecamera. Quindi, a parte l'ovvio, foto e video, foto, la telecamera scatta delle foto in base al movimento, video, invece vengono registrati dei video. Andiamo sulla modalità time-lapse che forse non tutti conoscono e di cui vedete un esempio adesso nel video. Questa modalità vi consente di registrare una serie di scatti ad intervalli da voi predeterminati che poi possono essere montati insieme per realizzare quello che state vedendo e che viene chiamato praticamente time-lapse. Sostanzialmente si tratta di un picture-in-picture animated motion, quindi abbiamo creato un'animazione partendo da un filmato fatto, in effetti, da tanti scatti. E ovviamente va da sé che questo sia utile a seconda dei casi e a seconda delle circostanze. Tornando al nostro menu, ci spostiamo sempre in basso e andiamo sulla modalità hybrid mode. Ora, in hybrid mode, la telecamera fa sia delle foto sia dei video. Ma non è solo questo a cambiare. Questo perciò vi dicevo fate riferimento al manuale di istruzioni perché in questa modalità la telecamera cerca in particolare di registrare il movimento di un tipo particolare di animali grazie alla configurazione dei led infrarossi che sono gli animali a sangue freddo. Perché è importante? Perché se utilizzate questa modalità per gli animali a sangue caldo la telecamera nella maggior parte dei casi non scatta. Quindi abbiatene sempre, tenete sempre in considerazione questo fattore. Poi abbiamo il motion detection come suggerisce il nome. In questo caso la telecamera si concentra a prescindere dal tipo di animale sul movimento. Quindi appena c'è movimento la telecamera scatta o in ambienti con bassissima luminosità ed è quella in cui secondo noi dà i maggiori risultati oppure come telecamera di sicurezza, sorveglianza, oppure come telecamera fissa come dicevamo prima perché vi consente di avere un feedback visivo immediato di ciò che succede. Come vedete il tempo di stand-by è davvero breve quindi bisogna muoversi rapidamente e questo è un po' fastidioso però più che altro per la realizzazione del video. Poi nella configurazione vi accorgerete che questo problema non c'è. Abbiamo esaurito le modalità e vi ripeto tornate sempre a leggerle sul menu, sul manuale di istruzioni, perdonate, torniamo indietro con il tasto menu e andiamo avanti. Set clock, beh, come dice la parola stessa, impostiamo l'ora e la data. Digital zoom ci consente di impostare uno zoom e viene visualizzato qui in alto sotto l'icona della fotocamera. In questo caso uno per significa che è disabilitato. Noi non abbiamo voluto abilitarlo anche perché l'obiettivo grandangolare secondo noi dà il meglio di sé quando non è abilitato il digital zoom ma se volete basta cliccare su enter e potete scegliere da un fattore off 1x come abbiamo visto prima fino a un valore 4x. Ripeto, nella nostra esperienza il digital zoom può essere trascurato perché davvero l'obiettivo fa un buon lavoro. Poi nel sottomenu image size possiamo regolare la risoluzione dello scatto che viene catturato dalla telecamera. Ovviamente 12 megapixel è il massimo e avete un'ottima foto e degli ottimi video ma se avete esigenze per una SD card ad esempio di bassa capienza o se prevedete di lasciarla più a lungo di una giornata per esempio e pensate di poter incorrere in problemi di memoria potete scendere fino a una risoluzione minima di 2 megapixel risparmiando ovviamente spazio di archiviazione. Non è in realtà il numero che vogliamo sia fissa come prefisto alle immagini salvate bensì il numero di scatti che vogliamo lì a fotocamera catturì. Infatti possiamo andare da 1 fino a un massimo di 9. Ecco qui. Confermiamo sempre con Enter e torniamo indietro. Va di fatto naturalmente che questo dipende sia dalle esigenze che avete sia dalla scheda di memoria che avete inserito. Successivamente abbiamo un video size come per il picture quality qui possiamo decidere che risoluzione video utilizzare se il classico 720p quindi 1280x720 oppure il 1080 1920x1080 inutile dire che potendo i video migliori si ottengono in HD quindi utilizzate il 1920x1080 per avere dei risultati davvero belli come quelli che state vedendo in questo momento nel video e sono screenshot di video che abbiamo realizzato ed anche still image catturati in precedenza. Tornando alle impostazioni abbiamo video lens che ci consente di decidere quanto deve essere lungo il video in questo caso possiamo andare da 40 secondi in poi fino a superare il minuto come vedete senza problemi ovviamente più lungo il video maggiore sarà lo spazio in memoria accumulato maggiore sarà la possibilità di catturare il movimento che vi interessa quindi va bilanciato in base alle vostre necessità audio recording l'abbiamo detto prima la telecamera dispone di un microfono integrato qui in basso se abilitiamo l'audio recording avremo anche l'audio nei nostri video il sottomenu tv auto type ci consente di specificare a che impianto l'abbiamo collegata nel nostro caso lo standard e pallo ovviamente in altri stati in altri standard è ntfc e questo vende utile alla differenziazione del mercato ma diciamo che una volta impostato qui non dobbiamo avere più problemi ecco di andarlo a modificare almeno per quanto ci riguarda power manage è il menu dedicato al risparmio energetico ora se impostiamo una modalità normale come avete visto in precedenza lo schermo si spegne dopo alcuni secondi e questo in modalità predefinita la modalità real time away invece sfrutta il sensore PIR il sensore di luce per capire quando effettivamente ci siamo allontanati dalla telecamera e quindi soltanto allora attivare il risparmio energetico questo è utilissimo quando volete testarla e quindi volete evitare che vi si spenga lo schermo insomma mentre la state configurando andiamo avanti PIR INTERVAL questo è un menu utilissimo perché dice alla telecamera qual è l'intervallo di inattività del sensore di movimento ora cosa significa se noi lo regoliamo a un minuto e un secondo in questo esempio la telecamera registra un movimento e poi ignora tutti i movimenti che avverranno nei successivi un minuto e un secondo è importante valutare questo aspetto perché ovviamente vi consente di ottenere un numero minore di immagini consumare meno energia avere meno duplicati però ovviamente vi fa perdere dei movimenti qualora stesse cercando di per esempio avere la meglio su un animale particolarmente veloce o in un transito quindi non vi conviene utilizzare quella funzione particolare tornando poi al menu abbiamo il sottomenu dedicato al timelapse di cui parlavamo prima in cui possiamo impostare il tempo che deve trascorrere tra ogni scatto il minimo sono 10 secondi possiamo ovviamente quindi aumentarli a piacimento e abbiamo poi la regolazione dei minuti e addirittura delle ore qualora in cui abbiamo un progetto ovviamente che richiede una tale impostazione timer settings altra impostazione molto importante perché vi consente di regolare il tempo invece che deve trascorrere tra uno scatto e l'altro quando non siamo in modalità timelapse ma quando siamo in una delle modalità ibride per comprendere meglio questo menu vi ripeto date uno sguardo al manuale di istruzioni o leggete la recensione perché potrebbe sembrare facile però in realtà ci si confonde facilmente il timestamp invece è la funzione che vi consente di visualizzare sulle foto la data e l'ora e può essere semplicemente attivata o disattivata per quanto riguarda invece temperature anche qui è un'impostazione tra Fahrenheit e Celsius e vi consente di visualizzare appunto in basso sulle immagini la temperatura nel momento in cui è stato effettuato lo scatto andando avanti battery calc che crediamo sia l'abbreviazione di battery calculator sostanzialmente è un menu nel quale possiamo chiedere alla telecamera di fare una stima dell'autonomia basata o sui giorni di funzionamento con l'energia residua nelle batterie oppure come percentage mostrando una percentuale di carica delle batterie ora per nostra esperienza se usate le batterie ricaricabili diciamo la stima percentuale non è efficace quindi utilizzate la stima per giorni che vi da invece un calcolo realistico o quantomeno più affidabile per quanto riguarda la durata la frequenza in questo caso è un'altra delle impostazioni che riguarda il video potete scegliere tra i classici 50 o 60 Hz ovviamente a seconda del sistema video su cui poi pensate di implementare le riprese fatte dalla videocamera ancora poi stiamo qui nelle impostazioni di personalizzazione generale quindi camera name possiamo scegliere un identificativo per la nostra telecamera che sia numerico o affanumerico come vedete in questo caso l'avevamo chiamata semplicemente 1 ma a voi la scelta diciamo che è abbastanza indifferente qualora non abbiate più modelli da dover identificare e di cui dover riconoscere le immagini il menu security enable è molto utile perché ci consente se lo attiviamo di impostare un codice di sicurezza che viene chiesto ad ogni accensione della fotocamera e ad ogni accesso al menu questo in pratica ci garantisce che soltanto noi possiamo modificare le impostazioni che abbiamo visto finora altra funzione di sicurezza è qualora appunto lasciamo la telecamera in posa magari per lunghi periodi e di notte ovviamente nel bosco o magari semplicemente dietro casa e non vogliamo che altri possano manomettere le impostazioni latitude e longitude sono le due impostazioni che ci consentono di inserire nel formato classico latitude e longitude che verrà anch'essa registrata nelle immagini per poterle meglio identificare o meglio classificare molto utile il sottomenu wifi SD che serve ad abilitare o meno la funzione wifi sull'eventuale scheda SD e che sostanzialmente va ad alimentare in modo diverso la scheda SD inutile dire che se non disponete di una scheda SD con funzione wifi non dovete abilitare questo menu poi c'è la sottosezione language che purtroppo manca dell'italiano come potete vedere quindi l'inglese è la scelta migliore per quanto riguarda poi il sottomenu format beh è evidente vi consente di eliminare ogni dato presente sulla scheda SD e infine il default set sarebbe il factory reset che vi consente di cancellare tutte le impostazioni configurate finora per quanto riguarda invece il sottomenu system questo è un menu di informazione che vi da la versione del firmware oppure vi consente poi di aggiornarlo ovviamente fate riferimento al sito del produttore per quanto riguarda gli aggiornamenti che vanno scaricati su SD e poi avviati tramite questo menu questo per quanto riguarda una panoramica molto molto veloce della nostra telecamera di questa SG009 vi ripeto il menu è davvero complesso quindi fate affidamento alla recensione e al manuale di istruzioni perché è davvero il vostro migliore alleato nel capire come funziona la telecamera ultima cosa che ci teniamo a dirvi quando passate in una modalità all'altra assicuratevi sempre di passare nella modalità off aspettate tre secondi che la telecamera sia completamente spenta ve ne potete sincerare vedete muovendovi sul pir non si accenderà più la spia rossa e allora date il comando on quando passate in modalità attiva la telecamera si comporta quasi come la modalità di test però in questo caso ci chiede il security check di cui parlavamo prima e successivamente entra a funzionare ancora una volta prima passate su off e poi andate su test per poter riconfigurare la telecamera un'ultima cosa che ci teniamo a sottolineare è che tutta la telecamera è circondata da un apposito ring in silicone che ne garantisce ovviamente la tenuta stagna quindi quando andate a richiuderla fate sempre attenzione a che non ci sia nulla tra il bordo della chiusura e lo ring in silicone in modo tale da non creare danni questa è una delle cose che più spesso crediamo possa causare danni vedete perché se non vengono sollevati i gancetti di chiusura vanno a spingere sullo ring in silicone e possono danneggiarlo quindi accertatevi sempre di tenere sollevati questi due blocchi avvicinate accuratamente le due metà controllando che non ci sia nulla tra di esse e poi procedete al blocco una volta bloccata la telecamera è perfettamente stagna e vi assicuriamo resiste tranquillamente a pioggia e detriti presa di acqua e addirittura è caduta l'abbiamo trovata anzi il giorno dopo in una piccola pozzanghera per via del maltempo ed ha resistito perfettamente bene questo è tutto per la nostra video recensione sulla SG-009 della Tech Beam vi ricordiamo che potete leggere la nostra recensione per trovare tutti gli altri dettagli su questa ottima action camera sbarra hunting camera sbarra game camera a seconda di come la volete definire e ovviamente per leggerne di tutti i dettagli che per esigenze di tempo non siamo riusciti a includere nel nostro video una valutazione complessiva è un'ottima action camera è polifunzionale resiste davvero bene al cattivo tempo registra delle immagini bellissime che sono quelle che potete vedere qui alla fine del video e secondo noi ha tantissimi utilizzi che non sono solo quelli esclusivi prettamente limitati al suo settore di applicazione quindi alla caccia o all'osservazione della vita notturna degli animali ma secondo noi è anche un'ottima telecamera da videosorveglianza mimetica che può essere usata per monitorare le aree di pertinenza della propria proprietà ed evitare in questo modo le intrusioni grazie a tutti per averci seguito speriamo di esservi stati utili nel caso lasciateci una valutazione positiva grazie ancora